Per quanto io non appartenga a livello di background personale sportivo al beach volley, l'ho vissuto molto a fondo e a pieno negli ultimi due anni e devo dire che è stato un traguardo veramente molto sentito da tutto il movimento italiano del beach volley e poi come tecnico insieme allo staff che è servito per raggiungere questo grandissimo risultato e ovviamente ragazzi dopo un po' ci si rende conto, è veramente una soddisfazione molto molto grande. Era stato un risultato che avevate già programmato comunque previsto oppure è stata veramente una sorpresa questa del beach volley? Una sorpresa no, perché comunque quando si lavora in ambito sportivo si è consapevoli delle proprie capacità, questo sì, però si programma e ci si pone obiettivi sempre comunque molto alti, perché comunque per quanto si possa essere consapevoli delle proprie capacità lo sport può dare anche generale delle sorprese e quando ci si crede fino in fondo e si hanno le capacità per poter ottenere certi obiettivi bisogna essere in grado di porseli e noi abbiamo l'obiettivo della medaglia a Rio e l'abbiamo ottenuto. Adesso possiamo dire che arriva anche un'altra prova, abbiamo sentito l'assessore nel momento che ti ha consegnato il riconoscimento, ha detto che le eccellenze sportive come la tua, come quella anche di Marco Encine e di tanti altri aretini che erano impegnati alle Olimpiadi devono essere anche un monito per gli sportivi e soprattutto per lo sport aretino. Beh sì, io spero che più che un monito, spero che possa essere anche un esempio, un esempio perché con il sacrificio comunque si possono ottenere grandissimi risultati ma soprattutto il mio non è un ruolo diciamo primario all'interno di quello che potrebbe essere lo staff tra nazionale però un ruolo comprimario, ogni ruolo alla fine comprimario perché in campo scendono i ragazzi e sono i ragazzi e ottenono il risultato, però io spero che dall'esempio di uno staff affiadato, di uno staff che collabora possa nascere anche appunto un esempio per la cittadinanza sportiva, chiamiamolo così, di Arezzo che possa contribuire a delle collaborazioni fra tutti coloro che investono il loro tempo, il loro denaro nello sport di Arezzo.